Un progetto importante che deve garantire la sicurezza dei cittadini e l'intervento tempestivo dell'elicottero del 118 in caso di emergenza. La piazzola da realizzare a Vilminore di Scalve, oggetto di dibattito nel corso di un incontro con Amadeo Amedeo, direttore dell'azienda ospedaliera Bolognini di Seriate e di appositi stati generali convocati dall'ASN nel corso dei quali è stata approfondita la questione, è una priorità a cui non si può rinunciare. Questa è la convenzione del Presidente della Comunità Montana di Scalve, Franco Belingheri, che ha ribadito che gli oltre 100.000 euro necessari per la realizzazione della piazzola si possono reperire tramite contributo di privati e che la struttura sorgerà nel giro di pochi mesi. Anche perché quando si parla di sicurezza ed efficacia nei soccorsi sanitari il tempo è veramente prezioso e le risorse si devono trovare attivando tutte le forze disponibili sul campo. La Valle di Scalve è convinta che attraverso l'istituzione dell'elisoccorso del 118 risolve i problemi dell'urgenza e grazie all'interessamento del direttore generale dell'ASN di Bergamo siamo riusciti a identificare un'area che va bene sia al 118 e a quelli degli elicotteri e pensiamo nei prossimi mesi di riuscire a realizzarla. Noi stiamo predisponendo adesso il progetto di Massimo, lo dobbiamo far sottoporre all'organizzazione preposta la sicurezza degli elicotteri, ma abbiamo già concordato sul sopraluogo e ci hanno già dato le istruzioni come deve essere fatto questo progetto, quindi pensiamo che nella primavera prossima si possano realizzare i progetti. Attraverso l'interessamento sempre dell'ASN, coinvolgendo gli istituti bancari della Bergamasca e soprattutto questo gruppo di imprenditori siamo in grado di dire che ce la faremo.